Musica 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 C'è un bel 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 bel. La roccia per la terra. A tutto perché Fatima peva! Ufff, dove è fatima peva! Mi è nana, è stata in petita, non sono einea, ma sono unazza. Mi è nana, è stata in petita, non sono unazza, ma sono unazza. Il braccio è passato, Prst pure srca! Il mio golubo è stata anche in questo gabinetto. Sai cosa è Fatima? Io lo voglio! Ma non lo so. Io ti chiedi Inizio il giorno. La mia ragione. Sai come si chiamano? Comitia per sezione!